Si entra nel vivo dei play-off per il basket. Il Barcellone in Lega 2 accede alla semifinale. L'avversaria da battere sarà il Brindisi. Gara 1 si disputerà a Brindisi mercoledì alle 20.30. Domani alle 18 l'Agrigento darà ufficialmente il via alla semifinale dei play-off di divisione nazionale B. La squadra allenata da coach Cianni ospiterà sul parquet del Palamoncada il Roseto. In Serie C la Venosa Naci Reale dovrà affrontare domani alle 18 alla Palavolcan il Racalmuto. Un appuntamento importante per gli ascesi che ritrovano di nuovo in semifinale l'avversario che la scorsa stagione ha decretato la fine del loro campionato. Personalmente mi ricorda che mi devo togliere un sassolino dalla scarpa ed è il coronamento del nostro progetto che ci deve portare alla finale. Il Trapani incontrerà al Palailio il re del Reggio Calabria, palla 2 alle 19. In zona play-out il Gravina perde gara 3 contro il Gela e retrocede in C regionale. In campo femminile dopo una stagione brillante il Raguse na 2 perde gara 2 contro il Chieti ed esce dalla corsa a promozione. Volei sogna ad occhi aperti il Brolo di Romeo che vede le semifinali per la promozione in Serie 2 di pallavolo. La squadra tirrenica dopo aver violato Bergamo in 5-7 ha riportato la contesa dei quarti play-off in parità. Oggi alle 19 la sfida decisiva a Brolo. In semifinale di B2 donne è già approdato il Cefalù, vittorioso mercoledì in gara 2 sull'Olbia. Mercoledì rientreranno in gioco anche l'Agrigento B2 donne, seconda alle spalle dell'Eraclea, e il Giarratana, seconda in B2 maschile alle spalle della pallavolo Messina. Oggi si disputano anche le finali della Coppa Trinacria, la manifestazione ideata dalla FIPAV Sicilia per le formazioni siciliane di Serie D. A Fiumefreddo nella palestra di Vietonnea si ospiterà alle 18 la sfida maschile tra la Sportvolley Catania e il mondo giovane. Rugby, play-off di Serie B, il Palermo si gioca la stagione ma anche lo storico salto di categoria con l'amatori Parma, che arriva a Palermo con un ruolino di marcia impressionante, 21 vittorie consecutive su 22 partite. Il Palermo però affronta gli avversari a testa alta, secondo posto in classifica nel proprio raggruppamento con 18 vittorie, di cui ben 17 consecutive e due sole sconfitte. La gara d'andata si gioca domani alle 15.30 al velodromo Paolo Borsellino. Baseball, in campo le due formazioni della franchigia siciliana di Antonio Consiglio. Le Wild Fink Catania Softball, che hanno chiuso il girone d'andata prima in classifica, giocheranno la prima giornata di ritorno al campo merendino, domani alle 10.30 contro le Blue Dolphin di Capodorlando. Cerca di scatto dopo il KO interno contro il paterno Red Sox e il Catania Warriors in Serie C, che incontrerà domani alle 15 in trasferta alla Lee Terme. Chiudiamo con il football americano, primato solitario in vetta alla classifica per gli elefant Catania, che domani alle 15.30 giocano a Ostia, dove incontreranno i padroni di casa del Marine. Grazie. 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 Grazie.